Mesami, maintenant soyons sérieux. Chassons de nos ses... Che cosa succede quando si fa un piccolo viaggio di lavoro e poi all'ultimo momento si prendono dei regali per la famiglia in maniera un po' scoordinata quando il volo già sta per imbarcare? Rugby. Per chi è? No, è per me. La tazza per il nonno. Family fridge magnets. Magneti del frigorifero per la famiglia. And this is for me. Della squadra di calcio. E l'orsetto della squadra del calcio del Tolosa. Sempre del Tolosa. Incluso il cappello. Sì. Per la ragazza, per la fidanzata, un orsetto di Tolosa. Da amare tanto tanto. Parla anche francese. Esatto. L'orsetto parla anche francese. Tutto bene, signora. Spesa totale 130 euro. Ditemi nei commenti. Avrà fatto bene? Sì. Sì. Ciao.